Capitolo dodicesimo. La strana storia di Jonathan Small. L'ispettore rimasto nella carrozza era un uomo molto paziente perché passò un bel po' di tempo prima che lo raggiungessi. Il suo viso si rabboiò quando gli mostrai la cassetta vuota. «Ecco partita la ricompensa», brontolò. «Dove non c'è denaro non c'è pagamento. Il lavoro di questa notte avrebbe fruttato dieci sterline ciascuno a Sam Brown e a me se ci fosse stato il tesoro». «Il signor sciolto è ricco», dissi. «Tesoro no, farà in modo che siate ricompensati». Ma l'ispettore scosse il capo, sfiduciato. «È un brutto affare», ripeté, «e così la penserà il signor Atelney Jones». Le sue previsioni si dimostrarono esatte perché il detective restò decisamente sconcertato quando arrivai a Baker Street e gli mostrai la cassetta vuota. Holmes, il prigioniero e lui erano appena arrivati perché avevano cambiato programma e si erano fermati ad una stazione di polizia lungo la strada per fare rapporto. Il mio amico se ne stava sprofondato nella poltrona con la sua solita aria indifferente, mentre Small sedeva di fronte a lui, imperturbabile, con la gamba di legno accavallata su quella buona. Quando mostrai la cassetta vuota, si appoggiò indietro allo schienale con una fragorosa risata. «Questa è opera sua, Small!» ringhiò Atelney Jones. «Proprio così! L'ho nascosto dove non lo troverete mai!» esclamò esultante. «È il mio tesoro, e se non posso metterci sulle mani io, starò maledettamente attento che non ce le possa mettere nessun altro. Vi ripeto che nessuno al mondo ha diritto a quel tesoro, tranne tre uomini che sono nel penitenziario delle Andaman e io stesso. Adesso so che né io né loro possiamo servircene. Ho sempre agito nel loro interesse, oltre che nel mio. È sempre stato il segno dei quattro per noi. Beh, so che avrebbero voluto che facessi esattamente quello che ho fatto, gettare il tesoro nel Tamigi piuttosto che lasciarlo nelle mani di amici o parenti di Sciolto o di Morstan. Non abbiamo lavorato per Achmed per far arricchire loro. Troverete il tesoro proprio dove è la chiave e dove è il piccolo Tonga. Quando ho capito che la vostra lancia ci avrebbe raggiunti, ho nascosto il bottino in un posto sicuro. Niente rupie per voi questa volta. Lei ci sta imbrogliando, Small, disse a Telney Jones in tono severo. Se avesse voluto buttare il tesoro nel Tamigi le sarebbe stato più facile buttarcelo con tutta la cassetta. Più facile per me, ma anche più facile per voi ritrovarlo, rispose con un'occhiata obliqua e astuta. L'uomo che è stato tanto furbo da rintracciarmi è furbo abbastanza per ripescare una cassetta di ferro dal fondo di un fiume. Adesso che il tesoro è sparso in una zona di cinque miglia, più o meno, l'impresa è più difficile. Mi si è spezzato il cuore a doverlo fare. Ero quasi impazzito quando ci avete raggiunti. Comunque, inutile piangerci sopra. Ho avuto alti e bassi nella mia vita, ma ho imparato a non piangere sul latte versato. «Questa è una faccenda molto grave, Small», disse il detective. «Se avesse collaborato con la giustizia, anziché ostacolarla in questo modo, avrebbe avuto migliori probabilità al suo processo». «Giustizia», soghignò l'ex ergastolano. «Bella giustizia! Di chi è quel bottino se non nostro? È forse giusto che io debba cederlo a gente che non ha alzato un dito per guadagnarselo. Guardi in che modo me lo sono guadagnato io. Venti lunghi anni in quella palude infestata dalle febbri, a lavorare tutto il giorno sotto le mangrovie, incatenato tutta la notte in quelle luride baracche per i forzati, morso dalle zanzare, a rabbrividire per gli attacchi di malaria, a subire le angherie di un qualsiasi maledetto poliziotto negro felice di prendersela con un bianco. Ecco come me lo sono guadagnato il tesoro di Agra. E lei viene a parlarmi di giustizia perché non sopporto l'idea di aver pagato questo prezzo solo perché un altro possa goderselo. Preferirei finire mille volte sulla forca o ritrovarmi nella pelle una delle frecce di tonga piuttosto che stare rinchiuso in una cella a pensare che un altro fa la bella vita in un palazzo col denaro che dovrebbe aspettare a me». Smull aveva gettato la sua maschera di stoicismo e le parole gli sgurgavano impetuose dalla bocca mentre gli fiammeggiavano gli occhi e le manete tintinnavano col moto convulso delle mani. Vedendo la furia e l'impeto di quell'uomo potevo capire come si fosse sentito il maggiore sciolto nell'apprendere che l'ergastolano che aveva imbrogliato era sulle sue tracce. «Lei dimentica che di tutto questo non sappiamo nulla», osservò Placido Holmes. «Non abbiamo ascoltato la sua storia e non possiamo quindi dire fino a che punto la giustizia in principio possa essere stata dalla sua parte». «Bene, signore, lei è stato franco con me, anche se è lei che devo ringraziare per questi braccialetti ai polsi». «Ma non le servo rancore, è tutto giusto. Se vuole sentire la mia storia, niente in contrario a raccontargliela. Giuro su Dio che quella che le dirò è la pura verità, parola per parola». «Grazie, può mettere qui il bicchiere e se mi si secca la gola potrò bere un sorso». «Vengo dal Worcestershire, sono nato vicino a Pershore. Scommetto che se cercasse da quelle parti troverebbe che ci vivono un sacco di small. Ho pensato spesso di andarci a dare un'occhiata, ma il fatto è che non sono mai stato di molto credito per la mia famiglia e dubito che farebbero salti di gioia nel rivedermi. Era tutta gente perbene, che andava in chiesa, piccoli agricoltori, conosciuti e rispettati in tutta la zona, mentre io sono sempre stato un mezzo vagabondo. Alla fine però, quando avevo quasi 18 anni, non li disturbai più perché mi misi nei guai con una ragazza e riuscì a cavarmela solo arruolandomi nei third buffs, in partenza per l'India. Era destino però che non facessi a lungo il militare. Avevo appena superato il passo dell'oca e imparato a maneggiare il moschetto quando ebbi la stupida idea di fare una nuotata nel Gange. Per fortuna il mio compagno sergente John Holder era in acqua con me ed era uno dei migliori nuotatori dell'esercito. Un coccodrillo mi afferrò proprio mentre ero a metà del fiume e mi tranciò di netto la gamba, come un chirurgo, proprio sopra il ginocchio. Fra lo sciocche la perdita di sangue svenni e sarei annegato se Holder non mi avesse tratto in salvo fino alla riva. Rimasi cinque mesi in ospedale e quando alla fine ne uscizzo piccando, con questa gamba di legno lecata al moncherino, mi trovai congedato dall'esercito per invalidità e inadatto a qualsiasi occupazione attiva. Come potete immaginare furono giorni molto difficili. Era uno storpio inutile, non avevo ancora vent'anni. Ben presto però la mia disgrazia si rivelò una fortuna inaspettata. Un uomo di nome Abel White, che era venuto laggiù come coltivatore di piantagioni di anile per l'indaco, cercava un supervisore che si occupasse dei suoi culis e li facesse lavorare. Caso volle che costui fosse amico del mio colonnello, il quale mi aveva preso a benvolere dopo l'incidente. Per farla breve, il colonnello mi raccomandò caldamente per quell'incarico e dato che il lavoro andava svolto essenzialmente a cavallo, la mia deformità non era di grande ostacolo, perché potevo mantenere una presa salda in sella con la coscia. Tutto ciò che dovevo fare era di recarmi alla piantagione a tenere d'occhio gli uomini al lavoro e riferire se ce n'era qualcuno che batteva la fiacca. La paga era buona, disponevo di un alloggio comodo e nell'insieme ero contento di passare il resto della mia vita nella piantagione di anile. Il signore Abelwhite era un bravuomo e spesso faceva una capatina nella mia baracca per fumarci insieme una pipa, dato che laggiù i bianchi sono molto più cordiali gli uni con gli altri che non qui in patria. Beh, in genere la mia fortuna non è mai durata a lungo. D'improvviso, senza alcun segnale premonitore, fummo investiti dalla grande rivolta. Un mese l'India era tranquilla e pacifica, secondo tutte le apparenze come il Surrey o il Kent. Il mese dopo c'erano 200.000 diavoli neri scatenati e il paese era diventato un inferno. Naturalmente voi signori sapete di tutto questo, molto più di quanto ne sappia io, visto che leggere non è il mio forte. So solo ciò che ho visto con i miei occhi. La nostra piantagione si trovava in una località chiamata Mutra, al confine con le province nord-occidentali. Notte dopo notte il cielo era illuminato dai bagliori dei bungalow che bruciavano. Giorno dopo giorno, piccoli gruppi di europei attraversavano la nostra proprietà con mogli e figli, diretti ad Agra, dove erano stanziati i raggruppamenti militari più vicini. Il signore Abel White era un uomo testardo. Si era messo in mente che la portata della rivolta era stata esagerata e che da un momento all'altro sarebbe finita così come era cominciata. Se ne stava seduto in veranda a tracannare whisky e a fumare i suoi sigari scuri, mentre il paese era in fiamme intorno a lui. Naturalmente rimanemmo al suo fianco, io e Dawson, che insieme con la moglie teneva la contabilità e mandava avanti l'azienda. Beh, un bel giorno arrivò il crollo. Ero stato ad una piantagione lontana e la sera me ne stavo tornando lentamente a casa a cavallo quando mi cadde l'occhio su qualcosa di ammonticchiato sul fondo di un ripido nullà, un burrone. Guidai giù il cavallo per vedere di che si trattava e mi si gelò il cuore trovando la moglie di Dawson, fatta a pezzi e mezza divorata dagli sciacalli e dai cani locali. Poco più avanti lungo la strada c'era anche Dawson, a faccia in giù, morto, con una pistola scarica in mano e quattro sepois, morti anche loro, ammonticchiati l'uno sull'altro davanti a lui. Fermai il cavallo chiedendomi da che parte dirigermi, ma in quel momento vidi una densa nube di fumo che si alzava dal bungalow di Abel White e le fiamme che stavano per uscire dal tetto. Mi resi allora conto che non potevo fare niente per il mio datore di lavoro, ma che mi sarei senz'altro giocato stupidamente la vita se mi fossi immischiato nella faccenda. Dal punto dove mi trovavo, potevo vedere centinaia di quei diavoli neri con ancora addosso le loro giubbe rosse che danzavano e urlavano intorno alla casa in fiamme. Qualcuno di loro indicò verso di me e un paio di proiettili mi fischiarono alle orecchie. Quindi galoppai via, attraverso le risaie e a notte inoltrata, mi ritrovai in salvo fra le mura di Agra. Ma anche lì, come dimostrarono i fatti, non ero poi tanto al sicuro. L'intero paese era in fermento come un alveare. Ogni volta che gli inglesi riuscivano a riunirsi in piccole bande difendevano palmo a palmo il loro territorio con i cannoni. In qualunque altra zona erano fuggiaschi inermi. Era una lotta di milioni contro centinaia e la parte più sconvolgente di tutta la cosa era che gli uomini contro i quali combattevamo, fanteria, cavalleria o cannonieri, erano le nostre truppe scelte che noi stessi avevamo addestrato e preparato e che adesso si servivano delle nostre armi e suonavano le nostre trombe. Ad Agra erano di stanza il terzo fucilieri del Bengala, alcuni Sikh, un paio di squadroni di cavalleria ed una postazione di artiglieria. Era stato costituito un corpo volontari composto da impiegati e mercanti e mi unì a loro, gamba di legno e tutto. Ai primi di luglio facemmo una sortita contro i ribelli a Shaganj e li ricacciammo indietro, almeno per il momento, ma poi finimmo la polvere da sparo e dovemmo ripiegare sulla città. Da ogni parte non ci arrivavano che notizie disastrose, il che non è strano perché se osservate la mappa vedrete che ci trovavamo proprio nel cuore della rivolta. Lucknow sta un po' più di centomiglia ad est e Compor più o meno alla stessa distanza verso sud. Da ogni parte del compasso non c'erano che torture, uccisioni e distruzioni. Agra è un centro molto grande, pullulante di fanatici e di feroci sette demoniache di ogni sorta. Il nostro pugno di uomini si perdeva fra le stradine tortuose, quindi il nostro capo si spostò al di là del fiume, accampandosi nell'antica fortezza di Agra. Non so se qualcuno di lor signori ha mai letto o sentito parlare di quella vecchia fortezza. È un posto molto strano, il più strano in cui io sia mai stato, e Dio sa che di posti strani ne ho visti parecchi. Prima di tutto è di dimensioni enormi. Credo che le mura racchiudano acri e acri di terreno. C'è una parte moderna che ospitò tutta la nostra guarnigione, uomini, donne, bambini, provviste e tutto il resto, e ancora rimaneva spazio in abbondanza. Ma la parte moderna è niente rispetto alle dimensioni dell'acquartieramento antico, dove non va nessuno e che è il regno degli scorpioni e dei millepiedi. Pieno di saloni deserti, di labirintici passaggi, di lunghi corridoi che serpeggiano dentro e fuori, così che è facilissimo perdersi. Per questo motivo raramente qualcuno ci andava, anche se occasionalmente un gruppetto fornito di torce si recava in esplorazione. Il fiume lambisce il lato frontale del vecchio forte e lo protegge, ma dalle parti laterali e sul retro ci sono un'infinità di porte che naturalmente dovevano essere sorvegliate, sia nell'acquartieramento vecchio che in quello nel quale si trovavano le nostre truppe. Eravamo a corto di uomini, non bastavano a sorvegliare le fiancate dell'edificio e a occuparsi dei cannoni. Quindi c'era impossibile piazzare una guarnigione di sentinelle in permanenza a ciascuna delle innumerevoli porte. Quello che facemmo fu di organizzare un corpo di guardia al centro della fortezza e affidare la sorveglianza di ogni porta ad un bianco coadiuvato da due o tre indigeni. Ammetto costare di guardia durante determinate ore della notte ad una porticina isolata sul lato sud occidentale dell'edificio. Al mio comando c'erano due soldati Sikh e avevo l'ordine di sparare se c'era qualche problema in modo che il corpo di guardia centrale potesse mandare immediatamente soccorsi. Dato però che il corpo di guardia era distante buoni 200 passi e lo spazio intermedio consisteva in un labirinto di passaggi e corridoi, avevo i miei dubbi circa la possibilità che potessero arrivare in tempo utile in caso di un vero e proprio attacco. Comunque mi sentivo molto fiero di quell'incarico che mi era stato affidato, visto che era una recluta inesperta e con una gamba di legno per giunta. Per due notti feci la guardia con i miei panjabi. Due giganti dall'aria feroce, Mahomet Singh e Abdullah Khan, vecchi soldati che avevano combattuto contro di noi a Cilian Walla. Parlavano abbastanza bene l'inglese, ma non riuscivo a cavare molto da loro. Preferivano starsene appartati a parlottare tutta la notte in quel loro bizzarro gergo Sikh. In quanto a me me ne stavo fuori dalla porta a guardare in basso il corso largo e tortuoso del fiume e le luci sfavillanti della grande città. Il rullo dei tamburi, il crepitio dei tamtam, le urla e lo schiamazzo dei rivoltosi, esaltati dall'oppio e dall'hashish, bastavano a rammentarci tutta la notte dei nostri pericolosi nemici sull'altra sponda del fiume. Ogni due ore l'ufficiale di notte faceva il giro di tutte le postazioni per assicurarsi che non c'erano guai. La terza notte della mia guardia era scura e brutta, con una pioggerella incessante. Era molto noioso starsene all'ingresso della porta, ora dopo ora, con quel tempaccio. Cercai più volte di avviare una conversazione con i miei Sikh, ma senza molto successo. Alle due di mattina passò la ronda, spezzando per un momento la monotonia di quella notte. Vedendo che i miei aiutanti rifiutavano di fare due chiacchiere, tirai fuori la pipa e appoggiai il moschetto per accendere il fiammifero. In un attimo i due Sikh mi furono addosso. Uno di loro afferrò il moschetto puntandomelo alla testa, mentre l'altro mi teneva un coltellaccio alla gola giurando fra i denti che mi avrebbe tagliato il collo se solo facevo un passo. Il mio primo pensiero fu che quei due dovevano essere in combutta con i ribelli e quello era l'inizio di un attacco. Se le porte finivano nelle mani dei seipoi, la fortezza non avrebbe avuto più difesa e donne e bambini avrebbero avuto la stessa sorte che se fossero stati a compor. Voi forse penserete che stia cercando di crearmi un alibi, ma vi do la mia parola che a quel pensiero, anche se sentivo la punta del coltello che mi premeva alla gola, aprì la bocca con l'intenzione di mandare un urlo, anche se fosse stato l'ultimo, che potesse dare l'allarme al corpo di guardia. L'uomo che mi teneva sembrò leggermi nel pensiero perché mentre mi preparavo a gridare sussurrò, non fa rumore, la fortezza è al sicuro, non ci sono cani ribelli da questa parte del fiume. Le sue parole avevano il suono della verità e sapevo che se alzavo la voce era un uomo morto. Lo leggevo negli occhi scuri di quell'individuo. Aspettai quindi in silenzio per vedere cosa volevano da me. «Ascoltami, sahib», disse il più alto e il più feroce dei due, quello che chiamavano Abdullah Khan. «Adesso o stai con noi o dobbiamo chiuderti la bocca per sempre. È una faccenda troppo grossa perché possiamo avere la minima esitazione. O tu sei con noi anima e corpo e lo giuri sulla croce dei cristiani o questa notte il tuo corpo sarà gettato nel fosso e noi ci uniremo ai nostri fratelli nell'esercito ribelle. Non c'è via di mezzo. Cosa scegli? La morte o la vita? Hai solo tre minuti per decidere e tutto deve essere finito prima che torni la ronda». «Come posso decidere?», dissi. «Non mi avete detto che volete da me, ma vi dico subito che se è qualcosa contro la sicurezza del forte non ci sto e allora pugnalatemi pure e buonanotte». «Non è nulla contro la fortezza», rispose. «Ti chiediamo solo di fare quello per cui i tuoi compatrioti sono venuti in questo paese. Ti chiediamo di diventare ricco. Se questa notte ti unisci a noi, ti giureremo sulla lama del pugnale e col triplice giuramento che mai nessun sicca ha infranto, che avrai la tua giusta parte del bottino. Un quarto del tesoro sarà tuo. Ci sembra una proposta onesta». «Ma di quale tesoro parlate?», chiesi. «Sono pronto quanto voi a diventare ricco, ma ditemi in che modo». «Giurerai, allora», mi rispose, «per le ossa di tuo padre, l'onore di tua madre, la croce della tua fede, di non alzare la mano o formulare accuse contro di noi, né adesso, né mai». «Lo giurerò», risposi, «purché la fortezza non sia messa in pericolo. Allora il mio camerata ed io ti giuriamo che avrai un quarto del tesoro che verrà diviso in parti uguali fra noi quattro». «Ma siamo solo in tre», obiettai. «No, Dostakbar deve avere la sua parte. Ti racconteremo tutto mentre aspettiamo che passi la ronda. Mettiti di guardia alla porta, Mahomet Singh, e avvertici quando arrivano. Le cose stanno così, sahib, e lo dico a te perché so che un giuramento è vincolante per un Feringhi e che possiamo fidarci di te. Se tu fossi stato uno di quei bugiardi hindù, anche se avessi giurato per tutti gli dèi dei loro falsi templi, il tuo sangue avrebbe già macchiato il mio pugnale e il tuo corpo sarebbe nell'acqua. Ma il Sikh conosce l'inglese e l'inglese conosce il Sikh. Presta dunque orecchio a quanto sto per dirti». Nelle province settentrionali vive un rajah che possiede molte ricchezze, anche se il suo territorio è limitato. Molte di quelle ricchezze le ha ereditate dal padre e molte altre le ha ammassate lui stesso, poiché è un uomo di spregevole natura e si tiene stretto il suo oro, anziché spenderlo. Quando scoppiarono i disordini egli cercò di rimanere amico sia del leone che della tigre, con i sepoi e con i rajah della compagnia. Presto però ritenne che i bianchi avessero ormai le ore contate. In tutto il paese infatti non si parlava che della loro morte, del loro annientamento. Comunque, da uomo prudente, progettò le cose in modo che qualsiasi cosa accadesse, almeno metà del tesoro rimanesse nelle sue mani. Nascose gli oggetti d'oro e d'argento nelle cantine del suo palazzo, ma racchiuse le gemme più preziose e le perle più rare in una cassa di ferro e la fece per venire ad un suo servo, che travestito da mercante avrebbe dovuto portarla nel forte di Agra, dove sarebbe rimasta fino a quando non si fossero calvate le acque. In tal modo, se i ribelli avessero vinto, il rajah avrebbe conservato il suo denaro. Se invece avesse vinto la compagnia, avrebbe conservato i suoi gioielli. Diviso così il suo tesoro, si unì alla causa dei sepoi, perché erano molto forti alle frontiere del suo dominio. Ma vedi, sahib, agendo così, le sue ricchezze diventano automaticamente proprietà di chi sa usare il cervello. Il falso mercante, che viaggia sotto il nome di Achmet, si trova attualmente nella città di Agra e sta cercando il modo di penetrare nella fortezza. Ha con sé un compagno, il mio fratello adottivo Dostakbar, che conosce il suo segreto. Dostakbar gli ha promesso di condurlo questa notte ad un'entrata secondaria laterale della fortezza e ha di proposito scelto questa. Sarà qui fra poco e troverà Mahomet Singh e me ad aspettarlo. Il luogo è solitario e nessuno saprà della sua venuta. Il mondo non avrà più notizie del mercante Achmet, ma il grande tesoro del rajah verrà diviso fra noi. Che ne dici, sahib? Nel Worcestershire la vita di un uomo è considerata preziosa e sacra, ma le cose vanno diversamente quando si è in mezzo al fuoco e al sangue e quando si è avvezza ad incontrare la morte ad ogni piesso spinto. Che il mercante Achmet vivesse o morisse era una cosa che non mi importava minimamente, ma quei discorsi sul tesoro mi inebriarono e pensai a come avrei potuto usarlo nel vecchio mondo, a come sarebbero rimasti sbalorditi i miei parenti nel vedere colui che avevano sempre considerato uno sfaccendato tornare a casa con le tasche piene di scudi d'oro. Avevo quindi già preso la mia decisione, ma Abdullah Khan, pensando che ancora esitassi, insistette. Rifletti, sahib, mi disse, se quest'uomo verrà catturato dal comandante sarà impiccato o fucilato e i gioielli se li prenderà il governo così che nessuno ne guadagnerà una rupia. Ora, dal momento che a catturarlo saremo noi, perché non prenderci anche il resto? le gemme staranno altrettanto bene nelle nostre tasche che nei forzieri della compagnia e ce ne sarà a sufficienza perché ognuno di noi diventi ricco e potente. Nessuno ne saprà mai niente perché qui siamo isolati da tutti. Quale occasione migliore di questa? Dunque, sahib, dici se sei con noi o se dobbiamo considerarti un nemico. Sono con voi anima e corpo, risposi. Bene, disse restituendomi il moschetto. Come vedi ci fidiamo di te, poiché come noi non verrai meno alla tua parola. Ora non ci resta che attendere mio fratello e il mercante. Tuo fratello sa quali sono le vostre intenzioni, risposi io. L'idea è stata sua, ha concepito lui il piano. Andiamo alla porta a sorvegliarla insieme con Mahomet Singh. Pioveva ancora incessantemente perché eravamo all'inizio della stagione delle piogge. Pesanti nuvoloni neri si muovevano lentamente nel cielo e non ci si vedeva ad un tiro di schioppo. Davanti alla porta che dovevamo custodire c'era un profondo fossato, praticamente asciutto in molti punti, così che lo si poteva attraversare facilmente. Mi faceva uno strano effetto starmene lì con quei due feroci pungiabi ad aspettare l'uomo che veniva incontro alla morte. D'improvviso il mio occhio colse il tenue bagliore di una lanterna cieca dall'altra parte del fossato. Svanì dietro le collinette e poi riapparve, avanzando lentamente nella nostra direzione. «Eccoli!» esclamai. «Intima l'alt, sahib, come al solito!» sussurrò Abdullah. «Non fare nulla che possa insospettirlo. Fallo entrare accompagnato da noi e faremo il resto mentre tu rimarrai qui di sentinella. Tieniti pronto a scoprire la lanterna, così da essere sicuri che si tratta proprio del nostro uomo». La luce tremolante si era frattanto avvicinata, ora fermandosi, ora avanzando, fino a quando riuscì a distinguere due figure al di là del fossato. Le lasciai scivolare giù per una sponda, sguazzare nella fanghiglia e inerpicarsi fino a metà strada dalla porta prima di dare la voce. «Chi va là?» chiesi in tono sommesso. «Amici!» fu la risposta. Scoprì la mia lanterna inondandole con un fascio di luce. La prima era un gigantesco sic con una barba nera che gli scendeva fin quasi alla fusciacca di seta intorno alla vita. Non avevo mai visto un individuo così alto, se non al circo. L'altro era un ometto tondo e grassoccio con un gran turbante giallo, che teneva in mano un fagotto avvolto in uno scialle. Sembrava scosso da brividi di terrore perché gli tremavano le mani come per un attacco di malaria, e continuava a girare il capo di qua e di là con due occhietti lucidi e scintillanti come un topo che esce cautamente dalla tana. All'idea di ucciderlo mi sentivo gelare, ma pensai al tesoro, e il mio cuore divenne di pietra. Quando scorse il mio volto squittì di gioia, correndomi incontro. «La tua protezione, sahib, ansimo, la tua protezione per lo sventurato mercante Ahmed. Ho attraversato il Rajputana per venire a cercare rifugio nella fortezza di Agra. Sono stato derubato e percosso perché ero amico della compagnia. Benedetta sia questa notte che vede di nuovo in salvo me e le mie povere cose.» «Cos'ha in quel fagotto?» gli chiesi. «Una cassetta di ferro, rispose, che contiene una o due cose di famiglia, di nessun valore ma che mi dispiacerebbe perdere. Ma non sono un mendicante, e ti ricompenserò, giovane sahib, e compenserò anche il tuo governatore se mi concederai l'asilo che chiedo. Non me la sentivo di continuare a parlare con quell'individuo. Più guardavo la sua faccia grassa e spaventata, più mi sembrava difficile ammazzarlo a sangue freddo. Meglio farla finita.» «Portatelo al posto di guardia», ordinai. I due sicchi gli si affiancarono e il gigante gli camminava alle spalle mentre entravano attraverso la porta oscurata. Non avevo mai visto un uomo così circondato dalla morte. Rimasi all'ingresso, con la lanterna. Potevo udire i loro passi misurati che risuonavano attraverso i corridoi deserti. Improvvisamente i passi si arrestarono, sentì delle voci e il rumore di una lotta e il suono di colpi. Un attimo dopo, con mio profondo orrore, udire i passi che correvano nella mia direzione e il respiro pesante di un uomo in fuga. Diressi il raggio della lanterna nel lungo passaggio diritto, ed eccolo metto grasso che correva come il vento, col viso sporco di sangue e a poca distanza dietro di lui, balzando come una tigre, il gigantesco sic barbuto con un coltello che gli lampeggiava nella mano. Non avevo mai visto nessuno correre così svelto come quel piccolo mercante. Stava distanziando il sic e mi resi conto che una volta oltrepassato mi è uscito all'aperto, avrebbe potuto salvarsi. Provai un impulso di compassione, ma il pensiero del tesoro indurì nuovamente il mio cuore. Mentre mi correva accanto, gli gettai fra le gambe il moschetto e l'uomo rotolò due volte come un coniglio colpito da un proiettile. Prima che potesse rialzarsi, barcollando, il sic gli fu addosso e lo trapassò due volte nel fianco col coltello. L'uomo non emise un lamento, né mosse un muscolo, ma rimase lì dove era, caduto. Personalmente ritengo che cadendosi fosse spezzato il collo. Come vedete, signori, mantengo la mia promessa. Vi sto raccontando esattamente come si svolsero i fatti, sia che ciò torni o meno a mio favore. Si interruppe e allungò le mani ammanettate per prendere il whisky che Holmes gli aveva preparato. Confesso che ora quell'individuo mi faceva orrore non solo per quell'assassinio a sangue freddo nel quale era coinvolto, ma ancor più per il modo indifferente e incerto qual senso frivolo in cui lo raccontava. Quale che sarebbe stata la sua punizione, certo non poteva aspettarsi da me alcuna comprensione. Sherlock Holmes e Jones sedevano con le mani sulle ginocchia, ascoltando con estremo interesse quella storia, ma con la stessa espressione di disgusto sul viso. L'uomo forse la notò perché, quando riprese il racconto, c'era un'ombra di sfida nella sua voce e nel suo atteggiamento. Certo non fu una bella azione, disse, ma vorrei sapere quanti al posto mio avrebbero rifiutato parte del bottino sapendo che per tutta la ricompensa gli avrebbero tagliato la gola. Inoltre, una volta che era all'interno della fortezza, si trattava della sua vita o della mia. Se fosse riuscito a fuggire, tutta la storia sarebbe venuta alla luce e con ogni probabilità sarei stato deferito alla corte marziale e fucilato. La gente non era molto tenera in tempi come quelli. Continui la sua storia, disse seccamente Holmes. Beh, lo trascinammo dentro, Abdullah Akbar ed io, e pesava anche un bel po' per essere un ometto così piccolo. A guardia della porta rimase Mahomet Singh. Lo trasportammo in un luogo già preparato dai Sikh, ad una certa distanza dove un passaggio tortuoso conduce ad un'immensa sala vuota le cui pareti di mattoni cascavano a pezzi. In un punto, il pavimento di terra era affondato, formando una fossa naturale, e in essa depositammo il corpo del mercante Ahmed, ricoprendolo di mattoni sfusi. Fatto questo, ce ne tornammo al tesoro. Era ancora lì dove era caduto, al momento del primo attacco. La scatola era la stessa che ora è aperta sul vostro tavolo. Dal manico intagliato pendeva una chiave appesa ad un cordone di seta. La aprimmo, e la luce della lanterna illuminò una collezione di gemme quali avevo letto e sognato quando ero ragazzetto a Peshore. Accecavano a guardarle. Quando ci fummo abituati a quel bagliore le tirammo fuori e ne facemmo un elenco. C'erano 53 diamanti di acqua purissima, compreso uno che credo fosse chiamato il Gran Mogol e che pare sia il secondo diamante al mondo per dimensioni. C'erano 97 stupendi smeraldi, 170 rubini, alcuni dei quali però molto piccoli. 40 granati, 210 zaffiri, 61 agate e una gran quantità di acquamarine, onici, occhi di tigri, turchesi e altre pietre di cui allora non conoscevo il nome, anche se in seguito mi sono diventate familiari. Oltre a ciò c'erano circa 300 bellissime perle, 12 delle quali montate su un diadema d'oro. A proposito, queste ultime sono state tolte dalla cassetta e non c'erano quando la ritrovai. Una volta inventariato il nostro tesoro, lo rimettemmo nel forziere che portammo da Mahomet Singh, che era rimasto di guardia alla porta, per mostrarglielo. Rinnovammo poi solennemente il nostro giuramento di aiutarci l'un l'altro e di mantenere il segreto. Concordammo di nascondere il nostro bottino in un luogo sicuro, fino a quando nel paese fosse tornata la pace, per poi dividerlo equamente fra di noi. Non era il caso di spartircelo in quel momento, perché se ci avessero trovato addosso gemme di quel valore sarebbero sorti dei sospetti, e nella fortezza non c'era alcuna privacy né alcun nascondiglio adatto. Portammo quindi la cassetta nella stessa stanza dove avevamo seppellito il corpo e gli scavammo una nicchia nella parete meglio conservata e ci collocammo il nostro tesoro, ricoprendolo con dei mattoni. Prendemmo accuratamente nota del posto esatto e il giorno dopo tracciai quattro mappe, una per ciascuno, segnandole in fondo col segno dei quattro, perché avevamo giurato che ciascuno di noi avrebbe sempre agito nell'interesse degli altri tre, così che nessuno potesse approfittarsene. E posso garantirvi, con la mano sul cuore, che a quel giuramento non sono mai venuto meno. Bene, signori, è inutile che io vi dica come andò a finire la rivolta indiana. Dopo che Wilson prese Delhi e Sir Colin andò in soccorso di Lucknow, venne a mancare il sostegno principale di tutta la faccenda. Nuove truppe cominciarono ad affluire e Nana Sahib fuggì oltre frontiera. Una colonna volante al comando del colonnello Great Head arrivò ad Agra e la liberò dai pandi. Sembrava che nel paese fosse ritornata la pace e noi quattro cominciammo a sperare che fosse prossimo il momento in cui avremmo potuto tranquillamente andarcene con la nostra parte del bottino. Ma in un momento tutte le nostre speranze crollarono. Fummo arrestati per l'assassinio di Ahmed. Successe così. Il Rajah aveva affidato i gioielli ad Ahmed perché sapeva che di lui poteva fidarsi. Ma gli orientali sono sospettosi e cosa ti fa il Rajah? Prende un secondo servo ancora più fidato e lo incarica di spiare il primo. Questo secondo servo aveva l'ordine di non perdere mai di vista Ahmed e lo seguiva come un'ombra. L'aveva seguito anche quella notte e l'aveva visto entrare attraverso la porta. Naturalmente aveva pensato che si fosse rifugiato nella fortezza e il giorno seguente si presentò anche lui chiedendo asilo ma non trovò traccia di Ahmed. La cosa gli sembrò talmente strana che ne parlò ad un sergente della scorta che andò a riferirlo al comandante. Fu rapidamente organizzata un'accurata perquisizione e fu scoperto il corpo. Così, proprio quando pensavamo che non ci fosse più alcun pericolo, fummo catturati e processati per omicidio. Tre di noi perché quella famosa notte eravamo di guardia alla porta e il quarto perché si sapeva che era stato in compagnia dell'ucciso. Al processo non venne fuori nemmeno una parola sui gioielli perché il Rajah era stato deposto ed esiliato. Così nessuno se ne interessò in maniera particolare. L'omicidio però fu chiaramente dimostrato e così pure il nostro coinvolgimento. I tre Sikh furono condannati al carcere a vita e io fui condannato a morte pur se in seguito anche la mia sentenza venne modificata nell'ergastolo. Era una strana situazione quella in cui ci eravamo venuti a trovare. Eravamo lì tutti e quattro incatenati l'uno all'altro praticamente senza alcuna speranza di essere prima o poi liberati portando dentro di noi un segreto che se solo avessimo potuto servircene avrebbe consentito a ciascuno di noi di vivere da nababbo. C'era di che mangiarsi il fegato. Eravamo lì alla mercè dell'umore di un qualsiasi sorvegliante da quattro soldi mangiando riso e bevendo acqua quando fuori c'era un immenso tesoro che aspettava solo di essere preso. Avrei potuto impazzire ma sono sempre stato un tipo cocciuto così sopportai sempre sperando in una buona occasione. Alla fine sembrò che la buona occasione fosse arrivata. Fui trasferito da Agra a Madras e da Madras a Blair Island nelle Andaman. In questa colonia penale ci sono pochi galeotti e dato che fin dal principio mi ero comportato bene mi trovai ben presto a godere di certi privilegi. Mi venne assegnato una capanna a Hope Town, un piccolo agglomerato alle pendici del Mount Harriet e godevo di una discreta libertà. Il posto era squallido e infestato dalla malaria e tutto intorno alla nostra zona abitavano gli indigeni cannibali prontissimi a lanciarci una delle loro frecce avvelenate alla prima occasione. Dovevamo scavare, sterrare e piantare patate dolci quindi lavoravamo tutto il giorno. Solo la sera ci rimaneva un po' di tempo per noi. Fra le altre cose imparai a preparare e somministrare le medicine per il direttore dell'infermeria del carcere e imparai qualche nozione di medicina. Ero sempre allerta per un'eventuale occasione di fuga ma ci trovavamo a centinaia di miglia da ogni altro territorio e su quei mari c'è poco o niente vento. Era quindi difficilissimo fuggire. Il chirurgo e il dottor Somerton era un giovanotto sveglio e sportivo e gli altri giovani ufficiali avevano l'abitudine di riunirsi la sera nel suo alloggio per giocare a carte. L'ambulatorio dove preparavo le medicine era diacente al suo soggiorno da cui lo divideva solo una finestrella. Spesso se mi sentivo solo spegnevo la lampada nell'ambulatorio e rimanevo lì ad ascoltarli e a guardarli giocare. Piace anche a me giocare a carte e guardando loro mi sembrava di esserci anch'io intorno al tavolo. C'erano il maggiore sciolto, il capitano Morstan e il tenente Bromley Brown che comandavano le truppe locali. Poi c'era il chirurgo e due o tre funzionari del carcere, vecchie volpi che giocavano sempre sul sicuro. Era proprio un bel gruppetto affiatato. Beh, una cosa mi colpì ben presto e cioè che i militari perdevano sempre e i civili vincevano. Non voglio dire che bleffassero, comunque era così. Quei tipi della prigione non avevano praticamente fatto altro che giocare da quando stavano ad Andaman e conoscevano a menadito il rispettivo stile di gioco, mentre gli altri giocavano tanto per passare il tempo e buttavano giù le carte a casaccio. Notte dopo notte i militari si alzavano dal tavolo con sempre meno soldi in tasca e più erano al verde più volevano giocare per rifarsi. Il maggiore sciolto era quello che perdeva di più. In principio pagava in banconote e in oro, ma presto arrivò alle cambiali e per somme ingenti. A volte vinceva qualche mano, quel che bastava per rincuorarsi, poi la sfortuna si accaniva più che mai contro di lui. Se ne andava in giro tutto il giorno di pessimo umore e cominciò a bere più di quanto avrebbe dovuto. Una notte aveva perduto più del solito. Me ne stavo nella mia capanna quando lui e il capitano Morstan passarono barcollando, diretti ai loro alloggi. Erano amici per la pelle quei due, e dove andava uno quasi sempre andava l'altro. Il maggiore stava dando in escandescenze per le sue perdite. «Oramai è finita, Morstan!» disse mentre passavano davanti alla mia capanna. «Dovrò dare le dimissioni, sono rovinato!» «Sciocchezze, vecchio mio!» gli rispose l'altro dandogli una pacca sulle spalle. «Ho avuto una bella batosta anch'io, ma...» Quello fu tutto ciò che riuscì a sentire, ma era abbastanza per farmi riflettere. Un paio di giorni dopo il maggiore sciolto passeggiava sulla spiaggia, così colsi l'occasione per parlargli. «Vorrei chiederle un consiglio, maggiore!» gli dissi. «Allora, Small, che c'è?» chiese togliendosi di bocca il sigaro. «Volevo domandarle, signore, proseguì, chi è la persona giusta alla quale si dovrebbe consegnare un tesoro nascosto. So dove si trova mezzo milione di sterline, visto che io non posso servirmene, pensavo che forse la cosa migliore sarebbe di consegnarlo alle autorità competenti, e in quel caso forse mi ridurrebbero la pena». «Mezzo milione, Small?» domandò senza fiato guardandomi fisso per vedere se parlavo seriamente. «Esattamente, signore, in gioielli e perle. Stanno lì, pronte per chi se le prende. E il buffo è che il legittimo proprietario è stato esiliato e non può possedere alcuna proprietà. Così quel tesoro appartiene al primo venuto». «Al governo, Small», balbettò. «Al governo!» ma lo disse esitando, e in quel momento capì che lo avevo in pugno. «Allora, signore, pensa che dovrei informarne il governatore generale?» gli chiesi tranquillamente. «Beh, beh, non deve agire in maniera avventata, o potrebbe pentirsene. Sentiamo di che si tratta, Small. Mi racconti i fatti». Gli raccontai l'intera faccenda, con qualche piccola modifica così che non potessi identificare i luoghi. Quando ebbi terminato, rimase lì, impalato e pensieroso. Da come contraeva le labbra, potevo vedere che stava lottando con sé stesso. «È una faccenda molto importante, Small», disse alla fine. «Non deve farne parola con nessuno, e mi farò vivo con lei molto presto». Due sere dopo, lui e il suo amico, il capitano Morstan, vennero nella mia capanna nel cuore della notte, con una lanterna. «Voglio che lei racconti personalmente la sua storia al capitano Morstan, Small», mi disse. «La ripetei, esattamente come prima». «Sembra che sia vero, no?», disse. «Pensa che si possa agire su questa base». Il capitano Morstan annui. «Senta, Small», disse il maggiore. «Il mio amico qui presente ed io ne abbiamo parlato, e siamo giunti alla conclusione che questo suo segreto in fondo non riguarda il governo, ma è una faccenda sua personale, di cui lei può disporre come meglio crede. Ora, il problema è questo. Quale prezzo chiede? Potremmo accettarlo, quantomeno prenderlo in considerazione se si raggiunge un accordo». Cercava di mantenere un atteggiamento distaccato e indifferente, ma gli brillavano gli occhi per l'eccitazione e la copidigia. «Beh, in quanto a questo, signori», risposi cercando anch'io di sembrare indifferente, ma sentendomi eccitato quanto lui, «non c'è che un unico accordo per un uomo nella mia situazione. Voi aiutate me e tre miei compagni a riguadagnare la libertà e, in cambio, noi vi diamo un quinto del tesoro da dividere fra voi due». «Mh», disse, «un quinto? Non è un granché». «Verrebbero cinquantamila sterline a testa», risposi. «Ma come possiamo aiutarvi a riguadagnare la libertà? Sa benissimo che ci sta chiedendo l'impossibile». «Niente affatto», insistei. «Ho pensato a tutto, fino all'ultimo dettaglio. L'unico ostacolo alla nostra fuga è che non abbiamo un'imbarcazione adatta né provviste sufficienti per un lungo lasso di tempo. A Calcutta o a Madras ci sono un'infinità di piccoli panfili e scialuppe che farebbero al caso nostro. Procuratecene una. Noi faremo in modo di imbarcarci di notte e voi ci lascerete in un punto qualsiasi della costa indiana. Tutto qui». «Se lei fosse solo», disse. «O tutti o nessuno», risposi. «Lo abbiamo giurato. Noi quattro dovremmo agire sempre insieme». «Vedi, Morstan», disse, «Smolle è un uomo di parola. Non pianta in assi i suoi amici. Credo che possiamo tranquillamente fidarci di lui». «È una brutta faccenda», rispose l'altro. «Comunque, come giustamente dici, quel danaro sarebbe più che è sufficiente a salvare il nostro incarico». «Allora, Smolle», disse il maggiore, «immagino che dovremmo cercare di venirle incontro. Naturalmente dobbiamo prima purare la veridicità della sua storia. Mi dica dove è nascosta la cassetta. Io chiederò una licenza e tornerò in India con una delle navi mensili per il ricambio delle truppe per indagare sulla cosa». «Piano, piano», dissi raffreddandomi via via che lui si riscaldava. «Prima devo avere il consenso dei miei tre compagni. Ve l'ho detto, o tutti o nessuno». «Stupidaggini», mi interruppe. «Che hanno a che farci tre negri col nostro patto?». «Negri o gialli», risposi, «sono con me, e con me rimangono». Beh, la faccenda si concluse con un secondo incontro al quale furono presenti anche Mahomet Singh, Abdullah Khan e Dost Akbar. Discutemmo la situazione e, alla fine, raggiungemmo un accordo. Avremmo dato agli ufficiali le piante di quella particolare zona della fortezza di Agra, segnando il punto del muro dove era nascosto il tesoro. Il maggiore sciolto sarebbe andato in India a verificare la nostra storia. Se trovava la cassetta, doveva lasciarla dov'era e mandarci un piccolo yacht attrezzato per un viaggio che avrebbe gettato l'ancora al largo delle Rutland Island dove noi l'avremmo raggiunto. Dopodiché il maggiore sarebbe tornato ai suoi doveri. A quel punto il capitano Morstan avrebbe chiesto una licenza, si sarebbe incontrato con noi ad Agra e lì avremmo spartito il tesoro, consegnando a lui la sua parte e quella del maggiore. Suggellammo quest'accordo con i giuramenti più solenni. Rimasi alzato tutta notte con carta e inchiostro e al mattino le due mappe erano pronte, firmate col segno dei quattro, vale a dire Abdullah, Akbar, Mahomet e io stesso. Bene, signori, vi sto annoiando con questo lungo racconto e so che l'amico Jones non vede l'ora di mettermi al sicuro in gattabuia. Cercherò di abbreviare al massimo. Quel farabutto disciolto andò in India ma non fece mai ritorno. Pochissimo tempo dopo il capitano Morstan mi fece vedere il suo nome nella lista dei passeggeri di uno dei battelli postali. Suo zio era morto lasciandogli una fortuna e si era congedato dall'esercito. Nonostante questo aveva avuto il coraggio di trattare in quel modo noi cinque. Poco dopo Morstan si recò ad Agra e scoprì, come prevedevamo, che il tesoro era scomparso. Quella canaglia l'aveva rubato senza tener fede a una sola delle condizioni in base alle quali gli avevamo rivelato il segreto. Da allora ho vissuto solo per vendicarmi. Ci pensavo di giorno e ci rimuginavo di notte. Diventò il mio pensiero dominante, divorante. Non mi importava niente della legge, niente della forca. La mia unica idea fissa era di evadere, rintracciare sciolto e prenderlo per il collo. Perfino il tesoro di Agra era passato in secondo piano davanti alla mia smania di pareggiare i conti con sciolto. Beh, in vita mia mi sono prefisso molte cose e non ce n'è una che io non abbia portato a compimento. Ma questa volta ci vollero anni prima che mi si presentasse l'occasione buona. Come vi ho detto, avevo appreso qualche nozione di medicina. Un giorno in cui il dottor Somerton era a letto con la febbre, una banda di galeotti catturò nel bosco un piccolo indigeno delle Andaman. Era gravemente ammalato e si era rifugiato in un luogo solitario per morire. Mi occupai di lui, anche se era pericoloso come un giovane serpente, e dopo un paio di mesi era guarito e in grado di camminare. Nel frattempo si era in qualche modo affezionato a me e rifiutò di fare ritorno alle sue foreste, continuando invece a gironzolare intorno alla mia capanna. Imparai da lui un po' del gergo indigeno e questo fece sì che mi si affezionasse ancora di più. Tunga, così si chiamava, era un ottimo barcaiolo e possedevo una grande e spaziosa canoa. Quando scoprì che mi era devoto e che per me avrebbe fatto qualunque cosa, capì che era arrivato il momento buono per tentare la fuga. Ne discussi con lui. Una sera stabilita avrebbe dovuto portare la sua canoa ad un vecchio molo dimenticato e lì mi avrebbe preso a bordo. Gli ordinai di mettere a bordo parecchie zucche colme d'acqua e grosse quantità di noci di cocco e patate dolci. Era devoto e sincero il piccolo Tunga. Nessuno ebbe mai alleato più fedele. Nella notte stabilita la sua imbarcazione era al molo. Caso volle però che ci fosse anche una delle guardie carcerarie, un maledetto patan che non aveva mai perso occasione di insultarmi e picchiarmi. Avevo sempre giurato di vendicarmi e quella era l'occasione che aspettavo. Era come se il destino me lo avesse messo davanti per consentirmi di saldare il mio debito prima di lasciare l'isola. Se ne stava sulla riva guardando l'acqua con la carabina in spalla. Mi guardai attorno cercando una pietra con cui fracassargli la testa, ma non ce n'erano. Mi venne allora una strana idea. Ora sapevo dove trovare un'arma. Seduto nel buio mi tolsi la gamba di legno. Con tre lunghi balzi gli fui addosso. Puntò la carabina ma la colpì con violenza fracassandogli la fronte. Potete vedere la scheggiatura nel legno nel punto dove lo colpì. Cademmo insieme perché non riuscì a tenermi in equilibrio, ma quando mi rialzai vidi che era disteso immobile a terra. Raggiunsi la barca e dopo un'ora eravamo in alto mare. Tonga aveva portato con sé tutto ciò che possedeva al mondo, le sue armi e i suoi dei. Fra le altre cose aveva una lunga lancia di bambù e un tappetino in fibre di cocco di fattura locale col quale feci una specie di vela. Per dieci giorni andammo alla deriva affidandoci alla sorte e l'undicesimo fummo raccolti da un mercantile inrotta da Singapore a Jedda con un carico di pellegrini malesi. Una cozzaglia di gente con cui Tonga ed io riuscimmo ben presto ad ambientarci. Avevano un unico grosso pregio. Ci lasciavano in pace senza farci domande. Se dovessi raccontarvi tutte le peripezie mie e del mio piccolo compagno non mi ringrazierete certo perché dovremmo star qui fino all'alba. Vagammo per il mondo perché capitava sempre qualcosa che ci impediva di raggiungere Londra. Ma per tutto quel tempo non persi mai di vista il mio scopo. Di notte mi sognavo sciolto. Cento volte l'ho ucciso nel sonno. Finalmente tre o quattro anni fa ci trovammo in Inghilterra. Non mi fu difficile scoprire dove abitava sciolto e mi misi all'opera per scoprire se aveva venduto il tesoro o se ancora lo teneva presso di sé. Strinsi amicizia con qualcuno che poteva aiutarmi. Non faccio nomi perché non voglio mettere nessun altro nei guai. E scoprì che era ancora in possesso dei gioielli. Cercai in molti modi di arrivare fino a lui. Ma era cauto e astuto. C'erano sempre due pesi massimi accanto ai suoi figli e il suo kitmungar vegliava su di lui. Un giorno però veni a sapere che stava morendo. Mi precipitai in quel giardino infuriato all'idea che dovesse sfuggirmi di mano in quel modo e guardando attraverso il vetro della finestra lo vidi in letto affiancato dai due figli. Sarei entrato e li avrei affrontati tutti e tre ma in quel momento vidi la sua mascella rilassarsi e capì che era morto. Quella notte stessa penetrai nella sua camera e frugai fra le sue carte per vedere se da qualche parte era segnato il nascondiglio del nostro tesoro. Ma non trovai nulla e me ne venni via furioso e amareggiato. Prima però di andarmene pensai che se avessi mai rincontrato i miei amici Sikh sarebbero stati contenti di sapere che avevo lasciato un qualche segno del nostro odio. Così scarabocchiai il segno dei quattro come era stato segnato sulla carta e glielo appuntai al petto. Sarebbe stato davvero il colmo che lo avessero seppellito senza un qualche ricordo degli uomini che aveva ingannato e derubato. In quel periodo riuscimmo a raggranellare qualche soldo per vivere esibendo il mio povero tonga alle fiere e in altri ritrovi del genere come il cannibale negro. Lui mangiava carne cruda ed eseguiva la sua danza di guerra. Così alla fine della giornata avevamo sempre una manciata di spiccioli. Ero costantemente al corrente di quanto accadeva a Pondicerri Lodge e per qualche anno non si verificò alcun fatto nuovo tranne che si stava sempre cercando il tesoro. Finalmente arrivò la notizia tanto attesa. Il tesoro era stato trovato in cima alla casa nel laboratorio chimico del signor Bartolo mi usciolto. Andai subito a dare un'occhiata al posto ma non vidi in che modo con la mia gamba di legno avrei potuto arrampicarmi fin lassù. Venni però a sapere della botola nel soffitto e anche dell'ora in cui il signor sciolto cenava. Pensai che grazie a Tonga avrei potuto compiere la mia impresa. Lo portai con me dopo avergli avvolto una lunga corda intorno alla vita. Si arrampicava come un gatto e presto arrivò in cima al tetto. Ma disgrazia volle che Bartolo mi usciolto fosse ancora dentro la stanza e questo gli costò la vita. Tonga era convinto di aver avuto una brillante idea nell'ucciderlo perché quando arrivai aiutandomi con la corda lo trovai che gironzolava nella stanza pavoneggiandosi tutto soddisfatto. E rimase molto sorpreso quando lo frustai con la corda maledicendolo e chiamandolo un impudente sanguinario. Mi impadronì della cassetta col tesoro e la calai giù. Poi scesi anche io dopo aver lasciato sulla tavola il segno dei quattro per dimostrare che finalmente i gioielli erano tornati a chi ne aveva diritto. Tonga poi tirò sulla corda, chiuse la finestra e se ne andò per la via da cui era venuto. Non so che altro potrei dirvi. Avevo sentito un fiumarolo parlare della velocità della lancia di Smith, l'aurora, così pensai che sarebbe andata bene per la nostra fuga. Ingaggiai il vecchio Smith promettendogli una grossa somma se ci avesse trasportati sani e salvi alla nostra nave. Senza dubbio capì che c'era qualcosa di strano ma non era al corrente dei nostri segreti. Ecco la verità signori e ve l'ho raccontata non per divertirvi, infatti non mi avete fatto una cosa molto gradita, ma perché ritengo che il miglior modo che ho per difendermi sia quello di non nascondere niente, ma anzi di far sapere a tutti come io sia stato imbrogliato dal maggiore sciolto e come io sia completamente innocente per la morte di suo figlio. Un racconto davvero straordinario, disse Sherlock Holmes, un finale adatto ad un caso estremamente interessante. Non c'è nulla di nuovo per me nell'ultima parte della sua storia tranne il fatto che la corda l'aveva portata lei stesso. Questo non lo sapevo. A proposito, speravo che Tong avesse perduto tutte le sue frecce e invece è riuscito a lanciarcene contro una nella barca. Le aveva perdute tutte, signore, tranne quella che era rimasta nella cerbottana. Già, naturalmente, non ci avevo pensato. C'è qualche altra cosa che volete chiedermi? Domandò cortesemente il galeotto. Penso di no, grazie, rispose il mio amico. Bene, Holmes, disse a Telney Jones. Lei è una persona che si deve assecondare e sappiamo tutti che è un esperto del crimine, ma il dovere è dovere e io mi sono spinto un po' troppo oltre facendo ciò che lei e il suo amico mi avete chiesto. Mi sentirò più tranquillo quando il nostro cantastorie qui sarà sotto chiave. La carrozza sta ancora aspettando e giù ci sono due ispettori. Vi ringrazio molto entrambi per il vostro aiuto. Naturalmente sarete chiamati al processo. Buonanotte. Buonanotte a voi, signori, gli fece eco Jonathan Small. Vada avanti lei, Small, disse il prudente Jones mentre uscivano dalla stanza. Starò molto attento che non mi rompa la testa con la sua gamba di legno qualunque cosa lei possa aver fatto a quell'uomo nelle isole Andaman. Bene, questa è la fine del nostro piccolo dramma, osservai dopo che eravamo rimasti seduti per un po' a fumare in silenzio. Temo che questa sia l'ultima investigazione che mi offra l'opportunità di studiare i suoi metodi. La signorina Morstan mi ha fatto l'onore di accettarmi come futuro marito. Holmes ebbe un gemito di sconforto. Era ciò che temevo, disse. Non posso davvero congratularmi con lei. Ci rimasi un po' male. Ha qualche motivo particolare per disapprovare la mia scelta? Chiesi. No, di certo. La ritengo una delle giovani donne più affascinanti che io abbia mai incontrato e ci sarebbe stata utilissima nel nostro lavoro. Sotto questo aspetto è decisamente un genio. Guardi come fra tutte le carte del padre ha conservato la mappa di Agra. Ma l'amore è un'emozione e tutto ciò che è emozione contrasta con la fredda logica che io pongo al di sopra di tutto. Personalmente non mi sposerei mai per non offuscare la mia chiarità di giudizio. Mi auguro, risposi ridendo, che il mio giudizio resisterà alla prova. Ma lei è l'aria stanca. Sì, è la reazione. Per una settimana mi sentirò come uno straccio. È strano che quei periodi che in un'altra persona chiamerei di pigrizia in lei si alternino a periodi di straordinaria energia e attività, osservai. Già, rispose, ho tutti i numeri per essere un campione di pigrizia o attività frenetica. Spesso ripensa a quei versi del vecchio Goethe. Peccato che la natura abbia creato da te soltanto un uomo, poiché c'era materiale sia per un uomo valoroso che per un briccone. A proposito di questa faccenda di Norwood, vede che, come avevo immaginato, avevano un complice nella casa e altri non poteva essere che il maggiordomo, l'Al Rao. Quindi Jones ha almeno l'onore di aver pescato personalmente un pesce con la sua rete. La spartizione degli onori mi sembra ingiusta, dissi. In questa storia lei ha svolto tutto il lavoro. Io ci ho guadagnato una moglie, Jones ci ha guadagnato il credito. E a lei che resta? A me, rispose Holmes, resta ancora un flacone della cocaina e allungò la sua mano bianca affusolata. Qui termina Il segno dei quattro di Arthur Conan Doyle.